Chiediamo al Signore il dono di crescere nella pace, partendo ogni giorno dalle piccole cose, con un lavoro artigianale. Perché non bastano grandi incontri internazionali se nel nostro cuore, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro non c'è pace. Nell'omelia della prima messa del mattino, celebrata a casa Santa Marta dopo la pausa estiva, nella festa della Natività di Maria, Papa Francesco ha preso spunto dalla preghiera della colletta, che tutti noi possiamo crescere nell'unità e nella pace, per ricordare che ognuno di noi deve impegnarsi per far crescere il dono della pace, che nasce in posti piccoli, in un cuore, in un sogno, come accade a Giuseppe, protagonista finale della genealogia di Gesù riportata nel Vangelo di oggi. Grazie alla sua decisione nasce il piccolo di una promessa. La pace è un dono, è un dono artigianale che dobbiamo lavorare tutti i giorni, ma lavorarlo nelle piccolezze, nelle piccolezze di ogni giorno. non servono i grandi manifesti per la pace, i grandi incontri internazionali, se poi non si fa questa pace sul piccolo. Anzi, tu puoi parlare della pace bellissimamente, fare una conferenza grande, ma se nel tuo piccolo, nel tuo cuore non c'è pace, nella tua famiglia non c'è pace, nel tuo quartiere non c'è pace, nel tuo posto di lavoro non c'è pace, non ci sarà nel mondo.